se hai ricevuto una nuvola di punti dove le coordinate che esprimono la posizione planimetrica di ciascun punto della nuvola sono degli angoli latitudine e longitudine è molto probabile che quando la porti dentro un software di gestione nuove di punti come cloud compare tu non riesca a vedere la nuvola di punti nella sua tridimensionalità ma vedi una serie di punti allineati impilati lungo una linea verticale questo è legato al modo in cui gestiscono le nuvole di punti questa tipologia di software il mio consiglio primo principale e assoluto è chiedere se non hai fatto tu la nuvola di punti a chi ti ha dato la nuvola di punti di dartene un'altra dove le coordinate non sono più per quanto riguarda la posizione planimetrica una latitudine e una longitudine quindi non sono più coordinate geografiche ma sono delle lunghezze dei metri una x una y una est e una nord delle coordinate cartografiche se questo non puoi farlo per qualsiasi motivo per cui non hai ad esempio non hai traccia non hai contatto di chi ha realizzato quella nuvola allora prova a farti vedere in questo video come puoi con una serie di passaggi che prevedono l'utilizzo di cloud compare l'utilizzo di un software di conversione di coordinate che è convergo e un foglio di calcolo come puoi provare a gestire questo dato per quanto meno vedere la nuvola di punti ci sono un paio di criticità in questo processo per questo motivo ti dico che la soluzione migliore è quella è sempre quella di risalire alla fonte di chi ha generato la nuvola di punti e chiedere una nuvola di punti in coordinate cartografiche ma se questo non dovesse succedere prova a seguire questi passi che ora voglio condividere con te allora sono dentro cloud compare dentro cloud compare porto dentro una nuvola di punti eccola qua nuvola 6076 che è il codice psg del sistema di riferimento con cui ho esportato questa nuvola è una nuvola di punti in coordinate geografiche per quanto riguarda la posizione planimetrica la quota invece segue sempre un'altra direzione in topografia fa un'altra strada e quindi la quota è espressa in metri l'ho portata dentro cloud compare quello che vedo è una pila di punti una riga di punti allineati che non è minimamente rappresentativa dell'elemento che è descritto da questa nuvola di punti che ti anticipo essere un'area di cava una piccola parte di un'area di cava allora vediamo come si può in qualche modo gestire questo dato esco cioè scusa cancello questa nuvola di punti perché la voglio riportare dentro cloud compare condividendo anche alcuni passaggi nella fase preliminare di importazione del dato questo file è un file lass è un file tutto sommato molto comune per quanto riguarda la le nuvole di punti e questa tipologia di dati il file lass si porta dentro una serie di informazioni associati ai punti della nuvola che in questa fase però a me non interessano perché quantomeno io voglio mantenere lo scopo di questo video è farti arrivare in qualche modo a vedere la nuvola di punti che hai ricevuto nella sua tridimensionalità e con i colori quindi tolgo queste informazioni perché altrimenti dopo dovrei gestire una serie di campi scalari che potrebbero incasinarmi alcuni software che sono degli editor di testo e un foglio di calco lascio la spunta sulla importazione delle coordinate delle informazioni di colore rgb vado anche qui nell'extended fields in questo tab e tolgo la spunta sull'additional fields che sono ulteriori informazioni associate ai punti della nuvola che però in questa fase non mi interessa do apply all e poi autorizzo cloud compare a gestire una traslazione che in questa fase se guardiamo i numeri non è in nessun modo significativa tuttavia aiuta per evitare un problema che può essere che può insorgere se non autorizziamo la traslazione in questa fase per cui fidati di me e autorizziamo la traslazione anche se i numeri qua sono molto piccoli yes to all anche se ho una nuvola soltanto ecco che mi ritrovo nella situazione che ti ho fatto vedere prima non è che abbiamo fatto delle magie ho portato dentro un dato che ha di per sé dei problemi la ruoto e vedo sempre questa grande pila questa questa riga di punti adesso inizia il processo attraverso il quale voglio provare a portarti ad avere una nuvola di punti gestibile in cloud compare però poi magari anche dentro altri software la prima cosa che faccio è esporto la nuvola di punti in formato txt file di testo il formato las è un formato associato alle nuove di punti molto famoso per le nuove di punti ma le nuove di punti si esprimono anche si trovano anche espresse in formato txt quindi il txt che è un listato di informazioni è legato in qualche modo alla nuvola di punti la seleziono nell'albero dei layer schiaccio questo grande pulsante che ha l'icona del dischetto salva e nella cartella dove voglio salvarla chiedo al software di salvare un file che io chiamo nuvola 6706 txt il formato di file lo scelgo nel menu a tendina salva come è il primo asci cloud c'è il txt asci eccetera eccetera salva allora per quanto riguarda le coordinate la precisione delle coordinate normalmente andrei molto trascente dicendo che può possiamo trarre tranquillamente con un numero due ma in realtà visto che le coordinate planimetriche dei punti di questa nuvola sono degli angoli latitudine e longitudine e gli angoli e i decimali in un angolo che ha espresso in gradi decimali perché gli angoli in questo caso sono espressi in gradi decimali hanno una valenza molto molto importante quindi troncare dei decimali potrebbe voler dire evitare cioè impedire di localizzare univocamente un punto nella sua nello suo spazio in questo caso planimetrico io di decimali ne do almeno 10 potrebbero essere 8 comunque non andare sotto 8 decimali perché altrimenti ti perdi un sacco di informazione sicuramente 2 3 4 sono ancora pochi per quanto riguarda i campi scalari qua possiamo tranquillamente tranquillamente fregarcene perché perché le abbiamo tolte all'importazione della nuvola di punti come separatore dei campi io sono abituato a utilizzare il tab ma è una tua scelta per il resto lascio tutto quanto invariato do ok e se vado a vedere nella cartella dove ho chiesto di creare questo file esiste questo file txt che se lo apro con un editor di testo lo leggo in questo modo qui c'è già un primo limite tra quelli che ti ho accennato in apertura il limite è legato ai campi all'interno di questo file questa nuvola di punti dentro cloud compare se vado a leggere le informazioni vedo che è formata da 163 mila punti se in qualche modo hai già avuto a che fare con delle nuvole di punti sai che 163 mila punti fanno ridere per una nuova di punti quando siamo abituati ad avere nuvole di punti con 5 10 20 50 100 milioni di punti quindi il limite e qua ti chiedo un tuo feedback se hai o comunque un tuo un tuo consiglio se hai conosci dei software che gestiscono questi dati un limite in questo caso potrebbe essere nel numero di righe che in questo momento l'editor di testo che sto utilizzando io è un open source notepad plus plus può gestire in questo caso non ho problemi ma potrebbe esserci un problema già in questa fase come organizzato questo file di testo longitudine latitudine quota componente red green e blu quindi componente dei colori sono coordinate geografiche vedo che ci sono degli angoli ora lo devo convertire come faccio a convertirlo per convertirlo utilizzo un software che puoi scaricare liberamente dalla rete ne ho parlato in altri video che si chiama convergo se tu scrivi su google convergo software il primo risultato della setup di google è quello giusto ti manda al sito di cisis che è un centro interregionale da cui puoi scaricare andando un po più in basso l'eseguibile di convergo è un software che devi installare convergo software che permette di fare delle trasformazioni di coordinate all'interno dello stesso datum o tra datum diversi quindi ti permette di passare da un sistema di riferimento all'altro tra quelli che sono disponibili gestibili conosciuti utilizzati maggiormente in italia se hai a che fare se conosci queste procedure se conosci questi software che si chiamano software interpolatori sai anche che possono essere legati a dei grigliati religione per fare delle trasformazioni rigorose ecco per quello che dobbiamo fare noi in questo video grigliati gm non servono perché perché noi passeremo da delle coordinate geografiche a delle coordinate cartografiche ma rimanendo sempre all'interno del solito datum quindi non cambiamo datum e quindi il legame che mi permette di passare che lo fa il software da una coordinata geografica una coordinata planimetrica è un semplice equazione matematica per cui non è non si porta dietro degli errori quando arrivi in convergo devi fare delle scelte per quanto riguarda i dati in input e i dati in output allora in input utilizziamo come sistema di riferimento le trf 89 non è importante fare delle considerazioni in questo momento perché non stiamo parlando di sistemi di riferimento stiamo cercando ci stiamo parlando di sistemi di riferimento ma il nostro scopo è arrivare a vedere la nuvola di punti coordinati in output sempre utm etrf 89 ma piane la quota metto l'opzione di non modificare io assumo che la quota quantomeno sia giusta ora se ci sono dei problemi anche sulla quota fai in modo assolutamente di ritrovare chi ti ha fatto sta nuvola di punti e fatti correggere anche la quota per ora non la modifichiamo formato file con lista di coordinate qua devi fondamentalmente dire a convergo perché noi chiederemo di convertire un file ovviamente non scriveremo punto per punto com'è organizzato questo file c'è il numero e punto no il primo dato qual è longitudine latitudine c'è la quota sì il separatore decimale che cos'è il punto il separatore fra i campi spazio o tabulazione la stessa cosa la scegliamo i gradi sono stessa decimali la stessa cosa la scegliamo per il formato file con liste di coordinate in output non voglio il nome del punto s nord quota punto spazio tabulazione a questo punto vado dentro la cartella dove ho creato il file di esportazione da cloud compare lo trascina al suo interno non è importante se ci sono anche le coordinate le informazioni di colore convergo arriverà fino alla terza informazione la terza colonna poi fa la conversione si frega di quello che c'è red che c'è dopo gli dico converti lista file ci mette un pochino dipende da quanto è grande da quanti campi ci sono gli dice lui mi dice ho elaborato un file e nella cartella mi ritrovo un nuovo file con il suffisso 89 meno 32 lo apro ed ecco che vedo le coordinate per i soliti punti delle coordinate una coordinata est una coordinata una coordinata nord e la quota rimasta invariata ora devo organizzare questi due file in modo tale che ci sia un unico file dove c'è coordinata est coordinata nord quota e le informazioni del colore per fare perché voglio ottenere il colore quantomeno prevedere i punti colorati per fare questo io mi servo di un foglio di calcolo quindi utilizzo libreoffice calc perché mi permette di gestire meglio le colonne e faccio molto prima quindi copio i dati del primo campo del primo file le incollo tolgo già le colonne che hanno un'informazione mancante che non hanno informazione scusa poi vado a prendere l'altro file faccio un ctrl a ctrl c seleziono tutto e copio vado qui dentro incollo e di questo file di questi campi che ho portato dentro tengo soltanto l'informazione del colore ecco fatto che io ho un file formato da est nord quota rgb seleziono tutto copio crea un nuovo file dentro notepad plus plus o l'editor di testo che stai utilizzando che ha dentro tutto quello che mi serve questo file lo salvo come nuvo la txt e lo chiamo cloud compare input questo file lo prendo lo porto dentro cloud compare tolgo questa questa schifezza che abbiamo importato in prima battuta lo porto dentro cloud compare e lui mi dice sto ricevendo un file di testo mica della conferma di questi campi prima colonna la x la seconda la y una terza la z ok poi vedo delle altre colonne sono mica i colori sono i colori quindi gli do la conferma apply all lui mi dice ok sto ricevendo le coordinate che sono molto grandi e già questa è una cosa buona vuol dire che tutto sommato gli stiamo dando se si gestisce questi dati sia un po a che fare con questi dati secca una cosa buona perché sono le coordinate cartografiche in un sistema di riferimento proiettato è quello che abbiamo fatto mi autorizzi una traslazione così gestisco meglio le cose ti consiglio di autorizzare la traslazione a questo punto all'interno di cloud compare puoi vedere con qualche di con qualche limite cioè i punti sono un po troppo distribuiti uniformemente rispetto a quella che è la tipica distribuzione uniforme della nuvola di punti questo perché perché l'esportazione poi mi ha creato dei punti che hanno delle coordinate uguali una delle due coordinate uguali comunque tutto sommato riesco a vedere la nuvola di punti nello spazio tridimensionale e quindi sono riuscito a passare da una nuvola di punti in coordinate geografiche per la componente planimetrica che non avevo in nessun modo la possibilità di vedere all'interno di cloud compare o comunque di valutare nella sua tridimensionalità ad una nuvola di punti dove le coordinate adesso sono coordinate cartografiche in un sistema di riferimento proiettato e che mi permette in questo modo di essere vista e utilizzata all'interno di cloud compare secondo tutti i tool che ti mette a disposizione questo puoi utilizzarlo anche in altri software che gestiscono nuvole di punti e quindi hai avuto modo spero che tu abbia la possibilità di gestire un dato del genere se non è la possibilità di risalire alla fonte quindi spero che questo video sia stato utile in questo senso se pensi che possa essere per qualcun altro glielo puoi condividere io ti ringrazio per averlo visto ti do l'appuntamento al prossimo ti saluto fortissimo ciao